9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, allez, via, si va, buona, 2, 1, 2, 1, partiti giusto, allez, dai, dai, forza, facciamoli partire piano piano. Non riesco a fermare, non riesco a fermare, non riesco a fermare, dai ragazzi, buona vita a tutti, ci andiamo con il proguardo, dai, ricordiamo che abbiamo degli imprendi di 70 anni, molto bene in gara, salutiamo gli amici di Cecina che organizzano la regola del 4 di maggio, sarà mountain bike, ma è una testa, l'uomo di gare sui portacchi, amici del mountain bike, sempre presenti, buona giornata, ho visto anche gli impari che hanno una cappetta allenata, dai, dai, buona gara a tutti, buon divertimento, buona gara straordinaria, sono tutti quelli di sport, ma con il ciclismo non ce n'è, buona grimposa a Paolo Pettini, a tutti. Dai ragazzi, ora vedo, cicli d'audenze sempre presenti, e sono tantissimi, un esercito praticamente, dai, forza, forza ragazzi, buona pedalata. E' bella giornata! come vi ha ricordato il sindaco e il nostro grazie grande va a tutti voi ciclisti e cicliste che avete scelto di essere qui oggi buona pedalata, pedalate su strade che sono fatte a costa per godersi andare con il ciclismo dai, vai che si va buona pedalata rispettiamo tutti sull'arrivo dai, dai, corso ragazzi buona pedalata tutti è la carica dei 1.300 mi raccomando ricordatevi delle riprende c'è qualche restringimento che mi è stato già segnalato e da qui è insegnato in un caluto dai sulle note della fila armonica cucini la partenza dai, dai, dai che si va un saluto a tutti i ciclisti che stanno partendo via in Bocca Lugno tre percorsi lo ricordiamo buon divertimento a tutti allora ricordiamo poco prima di mezzogiorno i primi arrivi dei cicloturisti poco più di 70 km poco dopo mezzogiorno i primi arrivi del percorso medio alle 13 gli arrivi del percorso i primi arrivi del percorso lungo dalle 14 30 e previsione a tutti i primi arrivi del percorso a tutti i primi arrivi del percorso a tutti i primi arrivi del percorso Grazie.